Le 46 delibere sono necessarie e sono nell'interesse della città, accade talvolta per come il quadro normativo del nostro paese che si arriva a fine d'anno che si devono approvare con urgenza una serie di delibere altrimenti scadono e quella scadenza non diventa un danno per la giunta, diventa un danno per la città, sono tutti servizi essenziali, infatti quello che sta facendo una parte dell'opposizione, uno istruzionismo fine a se stesso che è contro ma non è per la città. Per il resto la valente in questi anni è stata un po' distratta perché se avesse seguito con attenzione la nostra linea politica amministrativa, vedete in tutte le mie dichiarazioni, io sono stato sempre per l'autonomia politica e per la cooperazione istituzionale. Luigi De Magistris non è mai cambiato, ha avuto toni molto forti quando si è messa in pericolo la città, ha sempre difeso la città, quando abbiamo ottenuto grazie alla nostra forza, la nostra credibilità, alla nostra capacità di interlocuzione, la cooperazione istituzionale abbiamo raggiunto quell'obiettivo che dovrebbe essere naturale in un paese democratico e che ci siamo conquistati in alcuni momenti con i denti, in altri momenti un po' fisiologico. Capisco che rode un po' a qualcuno, magari qualcuno che ha anche lavorato fino all'ultimo minuto per non far passare queste norme e che adesso invece grazie a un grande lavoro di cooperazione istituzionale che ha visto protagonisti, governo, forze parlamentari, città di Napoli, si raggiunge un obiettivo al quale altri avevano invece frapposto solamente ostacoli. Quindi De Magistris non è cambiato, ha sempre avuto i suoi difetti e li sono quelli di sempre. Può avere i suoi pregi che mi auguro possano aumentare, ma Luigi De Magistris politicamente non ha cambiato assolutamente linea, che è quella di continuare la rivoluzione governando, di avere tanto rispetto per le altre istituzioni e che finalmente ci siamo conquistati il rispetto, non perché qualcuno ce l'ha regalato, ma perché ce lo siamo conquistati. Quindi non abbiamo cambiato idea né su Bagnoli, né sulla cooperazione istituzionale, né sul governo. Le critiche che facevamo un tempo rimangono le stesse, ci sono cose che non ci piacciono e continueremo a denunciare. Quando ci sono delle cose buone, lo sottolineiamo, sono altri evidentemente che hanno cambiato idea, non certo noi. La nostra posizione è molto semplice. Quando il sindaco elogia la collaborazione istituzionale, è un punto a favore della città e noi vorremmo che quella collaborazione ci fosse anche a pieno in questa sala consigliare. Quindi non partecipare a un consiglio e venire oggi qui con oltre 40 delibere a fine anno, molte delle quali sono semplicemente di ratifica, quindi non emendabili, pone il segno meno su questa necessità di avere un rapporto collaborativo nel rispetto delle reciproche posizioni e nel rispetto dei ruoli. Quindi quello che noi abbiamo chiesto e quello che continueremo a chiedere e su cui noi vorremmo che il sindaco si impegnasse e che ci fossero delibere aperte di proposte al consiglio perché ciascuno di noi possa fare la sua parte, poter presentare un emendamento, poter provare a fare quello che i cittadini ci chiedono. far sentire la loro voce attraverso le nostre proposte.